In città è già iniziato il conto alla rovescia tra i devoti per i giorni clou della festa. Lei quest'anno, Claudio Consoli, viverà questi giorni, la festa di Sant'Agata, in maniera del tutto diversa come nuovo maestro del Fercolo. È emozionato? È emozionatissimo, è una grande responsabilità, è un compito arduo, lo porteremo avanti con la solita devozione di ogni anno nei confronti della padrona. Facciamo un passo indietro, quando è iniziata la sua devozione per Sant'Agata? Io sono diventato il devoto di Sant'Agata all'età di otto anni, per grazia ricevuta. A dodici sono stato iscritto al circolo e da lì poi è cominciato il cammino di lavoro e di servizio nei confronti di Sant'Agata e del circolo cittadino Sant'Agata. Parliamo dell'organizzazione della festa. Quali compiti attendono il maestro del Fercolo prima e durante la processione? Prima pulizia del Fercolo, organizzazione di... Sono giorni frenetici? Certo, sono giorni frenetici. Pulizia del Fercolo, curare la peregrinazio delle reliquie e poi le varie processioni che si svolgono in onore di Sant'Agata. Durante le processioni che compito ha? Durante le processioni partecipare alla processione, se c'è il velo portare il piedistallo perché spetta il maestro del Fercolo e poi se non per il velo stare in processione. Senta, quest'anno il maestro del Fercolo è stato nominato da Comune e Arcidioce, sia questo apre un aspetto del tutto nuovo, sia una stagione di cambiamento. Lei cosa ne pensa? Ma io non intendo di accordi, non so il motivo dell'accordo tra Chiesa e Comune. L'importante è che si faccia il bene di Sant'Agata e sicuramente il bene della festa. Senta, da pochissimi giorni sono stati nominati i dodici responsabili che raffiancheranno durante questa festa. È stata una scelta semplice? Sì, sì, è abbastanza semplice perché fondamentalmente sono sempre state persone che hanno lavorato per la festa, provengono dalle associazioni. Non è stato un compito difficile. Giustamente è gente che ha sempre svolto un determinato lavoro e continuerà a svolgere sempre lo stesso lavoro. Grossi cambiamenti non ne sono stati apportati. Per quanto riguarda il discorso relativo invece agli orari, ogni anno, nonostante le buone intenzioni, il busto reliquiario ha fatto il suo ingresso in cattedrale sempre più tardi e lontano dagli orari di un tempo. Lei come pensa di ovviare questa situazione? Comunque non ha una tabella di marcia prestabilita. Segue il suo percorso. Poi ovviamente ci sono le soste che si devono fare, i scarichi di cera, la confusione. Non ha orari di rientro stabiliti, soltanto l'uscita. Quella è cosa sicura. Poi dipende da come va. Grazie a tutti.